Funziona questo? Quanta folla! Quanta gente! Che dico gente? Gentissima! Bene! Benissimo! Non ho sentito! Non ho sentito! Il calcagno! Tutto questo tempo! Il calcagno! Non mi posso neanche alzare! E quando celebro la Santa Messa sono costretto ad acciarmi con un piede! Con un piedissimo! E quindi sono costretto a celebrare non una Messa, non un'intera funzione, ma una metà! C'è la viva a diri! Eppure sono costretto a farlo!